segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te intervista a jan bremer che ricordiamo insomma il fondatore il presidente di una delle importanti think tank che eurasia group che dice attenzione perché questa cosa sta mettendo in grossa difficoltà biden che ne esce indebolito e soprattutto bisogna tenere distinto quello che sta succedendo in ucraina rispetto a quello che sta succedendo adesso a taiwan che le due cose non camminano con lo stesso passo sì e no nel senso per vedere che biden ne esca male parte dipende a meno interessa moltissimo la traiettoria del presidente quindi che ne esca bene o male a pochissimo valore nel corso della storia nel corso delle cose ma comunque visto che siamo su questo piano ma per stabilirlo bisogna poi vedere che cosa succederà immediatamente adesso cioè adesso nei prossimi giorni nei prossimi mesi e dipende quanto si aggravi la crisi se no anche tra qualche anno il punto è che ha ragione bremer condice bisognerebbe tenere distinte le due crisi su questo certamente sì cioè mi riferisco a ucraina e taiwan ma invece proprio il legame fra queste due che ha condotto nancy pelosi da quelle parti a che cosa mi riferisco c'è stata qualche settimana fa una delle tante conferenze stampa a cui partecipa un presidente statunitense in questo caso come ovvio biden e più volte in questi mesi è tornata la domanda ma che cosa succederebbe se la cina invadesse taiwan visto ciò che è successo un tema ricorrente insomma un tema ricorrente esattamente qualche settimana fa biden ha detto a domanda specifica voi rispondereste militarmente in quel caso a differenza di quanto capitato in ucraina si intende direttamente cioè facendo direttamente la guerra alla cina e non in maniera indiretta sebbene molto presente in ucraina gli americani sono molto molto presenti ma non ufficialmente e biden ha risposto no tensione a taiwan noi risponderemmo direttamente lo ha detto poi la casa b h come sempre questi casi è tornata un po indietro il presidente dice qualcosa poi su want to rage non è solo il caso di biden succede spesso è fatto apposta è un giochino fatto apposta dice no non è cambiato nulla nel nostro atteggiamento eccetera eccetera ma quindi allora che cosa centra l'ucraina con taiwan il punto è proprio questo oltre a tutto ciò che conosciamo della vicenda l'impressione tra i soci degli americani i soci militari degli americani le filippine quella del sud giappone australia l'india che tutta contro gli americani tranne su un tema la cina che non è esattamente un tema rilevante temono che come è capitato in ucraina gli americani non rispondano direttamente alla cina in caso di invasione di taiwan questa visita serve a dire vedete siamo talmente seri al riguardo che siamo pronti a far precipitare la situazione anche adesso speriamo non succeda si dicono gli americani fra di loro è una scommessa questa attenzione